...che potrebbe portare una bella commozione, ed eccolo un coronamento, eh sì ci sta, mi vince qua la corona, principessa di Kronplatz, e direi anche della Coppa del Mondo, si fosse solo di Kronplatz, potrebbe scapparci una lacrimoccia, chissà se le importa più questo record o la quota 86-87, secondo me pesa di più questo per lei, l'atleta donna più vincente in Coppa del Mondo. La storia Il finale è perfetto 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 Il finale è perfetto